Seconda di vittoria di tappa per il britannico Alex Dowsett al Giro d'Italia, la prima in linea dato che la scorsa vittoria fu nel 2013 ma a cronometro, nella cronometro di Saltara di 54 km. Probabilmente il più forte tra i fuggitivi era il nostro Salvatore Puccio che aveva una grandissima gamba ed è arrivato secondo, ma purtroppo ha sbagliato tatticamente. Quindi onore a Dowsett ma onore soprattutto alla squadra, alla Israel Startup Nation che ha corso molto bene tatticamente portando alla vittoria il corridore britannico. Buon pomeriggio a tutti amici fastidi di sport, ben ritrovati su Mollerino Sprocciani. Io sono andato a adesso qui per parlarvi dell'ottava frazione del Giro d'Italia 2020 con partenza da Giovinazzo e arrivo a Vieste. Una tappa di 200 km con i primi 100 in pianura lungo la costa adriatica e poi gli ultimi chilometri, tutti gli insali e scendi, sulle colline del Gargano in Puglia. Fuga di sei corridori con due italiani, Puccio Ravanelli, con Roscoff, con Matthew Holmes e con il duo della Israel Startup Nation, Alex Dowsett e Matthias Brendel. gruppo che non sembra essere interessato a chiudere e manda la fuga praticamente a oltre 12 minuti. Sullo strap di Via Saragat, nel centro di Vieste, un chilometro al 9% con punti del 17, attacca Salvatore Puccio. Riesce a rimanere la ruota solamente Matthew Holmes con Joey Roscoff che rientra successivamente in discesa. Nel tratto di pinura successivo, grazie soprattutto al lavoro di Matthias Brendel, il duo della Israel Startup Nation con anche Ravanelli, riescono a rientrare sui fuggitivi. A quel punto parte subito l'austriaco Brendel che viene ripreso e subito dopo essere stato ripreso parte Alex Dowsett. Parte Alex Dowsett, manca la collaborazione indietro, Brendel molto bravo appunto a chiudere su tutti gli attacchi e a spezzare e a rompere i cambi. Con Ravanelli che non collabora, Roscoff che non collabora e praticamente Puccio e Holmes devono fare il lavoro. C'è appunto un nervosismo e quindi Dowsett riesce a prendere addirittura un minuto di vantaggio. Sul successivo strappo di Via Saragat, ancora una volta stesso copione del giro precedente, Puccio attacca, Holmes resta a ruota, Roscoff si stacca di qualche metro e rientra in discesa con Dowsett che perde circa 30 secondi e si ritrova a 25 secondi. Manca però ancora una volta la collaborazione, dietro vanno piuttosto piano, Dowsett invece con il massimo rapporto spinge come se fosse una cronometra, lui che è uno specialista appunto delle prove contro il tempo e anche grazie alle sue doti in pianura riesce a riguadagnare tantissimo e ormai arriva a quasi oltre un minuto e riesce a vincere la tappa. Dunque vittoria per Alex Dowsett davanti a Salvatore Puccio che chiude in seconda posizione regolando allo sprint Holmes e Roscoff a 1 minuto e 15. Per quanto riguarda Brandl chiude appunto in sesta posizione a 2 minuti e 10, in quinta posizione a 2 minuti e 10, 10 seguito da Ravanelli, il giovane corridore bergamasco dell'Androni Sidermek. Per quanto riguarda il gruppo arrivano tutti assieme, nessuno prova ad attaccare, unica fase un po' appunto complicata per il gruppo, un po' tesa, arriva nella discesa del Monte Sant'Angelo, l'unico GPM di giornata di 9 km attorno al 7% che arriva attorno alla metà della tappa. In questa discesa arriva la foratura di Jakob Fulsang, nel frattempo la track stava già tirando, stava già forzando il ritmo in discesa. Appunto, essendo che Nibali è molto brava in discesa, hanno preferito andare avanti e impostare il loro ritmo, mandando appunto in difficoltà alcuni corridori. Per quanto riguarda Jakob Fulsang, appunto, foratura, viene fermata tutta la squadra per aiutarlo, davanti la track continua l'azione anche in pianura per circa una decina di chilometri. Quest'azione sinceramente non mi è piaciuta molto, perché non so se fosse fatto per tenere dietro Fulsang, ma è probabile anche perché dalle dichiarazioni di Fulsang sembra che non ci sia molto amore, nonostante siano stati compagni di squadra tra Nibali e Fulsang. Dunque, sembrerebbe che Nibali abbia fatto appunto questo lavoro, perché davanti stanno tirando veramente forte, per tenere dietro Fulsang. Poi si sono rialzati e è riuscito a rientrare senza problemi. Comunque, un comportamento secondo me un po' antisportivo. Per quanto a me Nibali veramente piaccia tantissimo, devo dire che appunto questa azione non è proprio il massimo, perché insomma un corridore che è rimasto staccato per una foratura non è colpa sua, quindi non vedo il motivo per cui tirare. Comunque ragazzi, direi che per questo video è tutto, mi piace, lasciate un commento e piacere, iscrivetevi se vi piace anche sulla nostra pagina di segno, noi ci vediamo al prossimo video. Domani ci sarà la tappa di Roccaraso, una tappa molto interessante in cui si potrebbero avere degli sconvolgimenti in classifica, anche perché Steven Kresvik ha dichiarato la TV olandese che vorrà attaccare e provare a fare la differenza. Quindi ci sarà da divertirsi, meteo tra l'altro piuttosto invernale in quel di Roccaraso, quindi ci divertiremo domani.